bella raga bentornati qui con me su kb tv oggi siamo qui con una sfida su nell'arena del drago in particolare devo prendere fusion gogetta contro c'è scritto kid bu poco sotto quindi io sono al 79 se non l'ho visto male kid bu poco sotto il primo che becchiamo è lui eccolo qua 72 vai andate arena casuale vediamo cosa salta fuori io vi ringrazio ovviamente per tutte le sfide la settimana scorsa abbiamo fatto l'altro abbiamo fatto la storia di junior due per due settimane quindi mi sembra giusto fare le sfide che mi richiedete voi ah non devo pestarlo giustamente non è facile adesso piano 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 sono dolori aspetta servono sette indicatori aura ah no ah tre indicatori aura ah giusto perchè non devo andare a livello super saiyan esagerato vai no vai vai ah no 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 ecco mi servono solo tre indicatori aura però elevati oh kid kid te lo sto dicendo oh bravissimo vai che si carica fantastico vai via no no oh vai che ce l'abbiamo fatto vediamo se la fa serve quadrato x triangolo x quadrato perfetto fantastico anche questa è andata super fusion tanta roba e mi sa che adesso iniziano i dolori per te kid bu questa roba fa molto male te lo dico questa roba questa fusion fa veramente male forse questo fa più male oddio che botta mi ha dato oh no rotella te la ah si non hai una mossa finale tu non hai tipo bam 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 questa fa eh lo sapevo no ah già lui non si può caricare non ha una mossa giusto facciamola se si riesce no mi è andato dietro boia no 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 mi è andato dietro eh mi sa che qua mi secca aspetta allora eh vabbè giusto per fargli una mossa da da Goku attiva la eh dio mondo crudele mi ha preso in pieno la rifacciamo la rifacciamo si si io lose la rifacciamo tranquillo la rifacciamo uguale uguale così com'è casual va bene va benissimo ci riproviamo vediamo se ci riusciamo il problema delle fusion è che devo sempre andare a potenziare cioè devo sempre trasformarmi fare la mossa quindi è un po' casino comunque siamo qui oh però ecco vedi dove è il problema già qui ho preso botte senza motivo oh beh perfetto perfetto no 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 fai che godo fagli spercare si si fanno un'altra bravissimo Kid Bu si vai no 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 mi si è stancato mentre stavo per fare la mossa ma mannaggia i fiori dai non ci voleva questa scrivi parala dai non ci voleva proprio adesso vai prendo le le batoste gratuitamente perché vedi perché non posso fare ecco sono maree di danni che sto subendo però c'è avevo preso tipo 2000 va bene con questi fanno 3000 si perché tutto il danno che ho perso 2500 2500 solo per per cercare di fare una fusion cioè sta tutto qui il problema che poi ti voglio io recuperare 2500 di vita vediamo di pestarle adesso eh senza mossa finale va bene oh potresti anche cercare di farmi un'onda energetica tipo vai vai così vieni qua bello vieni qua castigatore di anime forse questa no ho failato eh a me ciao no ho failato ho failato beh non è che proprio toglia poco ci riproviamo si ma ho failato come un deficiente vai si 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 attack winner ragazzi vediamo quanto toglie vediamo quanto sta per togliere questa mossa questa secondo me toglie tanto adesso vi dico quanto ma toglie tantissimo cioè proprio una roba di bastante KO 3419 attenzione ragazzi qua è veramente partito il devasto più totale ragazzi vabbè tanta roba tanta roba KB va bene questa è la prima sfida adesso vi faccio la seconda 3400 ragazzi è devastante vegeta contro Goku aspettate devo prendere io vegeta non è specificato eh si non è specificato il livello di super saianaggio quindi no aspetta quindi devo togliere i super saian deduco dato che non abbiamo qua possiamo mettere questo questo può eseguire la ok questo no perché infatti serve la 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 storia lì vecchia armatura potenza la difesa vabbè si no perché alcune cose serve il livello super saian contro Goku 20 sopra io ero 42 quindi direi 62 vediamo se c'è un Goku a livello 62 62 qua vabbè 61 dai 61 mi faccio un favore mi faccio un favore lo becco a livello 61 tra l'altro potrebbe darmi le legnate più totali vabbè vediamo un po' vediamo un po' cosa si riesce a fare con questo vegeta normale forse questo mi fa eh lo so più mi fa male tanto tanto male tanto male per me vabbè io se la rifà no volevo fare oh che babbo se l'hai presa in faccia no non andare troppo non andare a livelli troppo alti che poi mi togli tanto stai lì stai nel tuo eh a posto super saian di terzo livello ce lo faccio io l'impato ce lo faccio io l'impato bada bim 456 danni per lui attenzione eh Goku super saian 3 per ora forse questa fa male potevo schivarla bella che oh si si che sei tornato normale vieni qua bello vieni qua non c'hai la mossa tipo definitiva così impatto finale no niente non c'ha niente di niente eh non c'ha non c'ha niente no questo fa male si bella KB che gli va dietro dagli un calcio no voglio dargli il calcio no non c'ha il calcio potente qui oh schiva si vai così grande 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 ma basta sta storia del so oddio no 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 finisce male qua si vai così vai così KB che vinci ti porti a casa la vittoria il calcio maledetto no no oh hai scassato sta storia che devi andare alla massima potenza ah ragazzi in sti giorni poi vi caricherò il secondo episodio di The Sin dato che me l'avete chiesto in tanti si e vai che gliel'ho fermata questa no questa schivala 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 ma c'è ragazzi sto dominando contro un Goku che si trasforma ogni 3 secondi in tutti i tipi di Super Saiyan conosciuti manca solo Super Saiyan 4 ma forse perché non l'ho messo nelle abilità no me l'ha respinta poteva essere il colpo decisivo forse questa eh lo sapevo eh l'ho fatta lo sapevo non dovevo farla perché quando lui va alla massima potenza ti va dietro fisso tutte le volte che ti va dietro e ti fa sta roba solo che toglie una marea di vita godo godo vai così dagli il pugno finale schivala oh dai che l'abbiamo detrasformato vuoi dargli un pugnazzo di quelli di quelli calcio devastante schivate calcio devastante schivate calcio devastante pam 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 voglio vincere col calcio devastante eh vabbè calcio normale gli ho dato vabbè ragazzi io qui ho vinto queste due sfide una dall'inizio l'ho persa ma l'abbiamo remediata dopo spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo come al solito con i prossimi video bella ciao 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 ciao